Prince Harry, Spare, il minore, capitolo 32. Non ricordo come ci procurassimo l'erba. Penso grazie a un compagno, forse più di uno. Ogni volta che ne avevamo, prendevamo possesso di un minuscolo bagno al piano di sopra, dove avevamo creato una catena di montaggio straordinariamente organizzata e ordinata. Chi fumava si sedeva sul gabinetto accanto alla finestra, il secondo si appoggiava al lavabo, mentre il terzo e il quarto sedevano nella vasca vuota, con le gambe fuori a ciondoloni, in attesa del loro turno. Facevi un tiro o due, soffiavi il fumo fuori dalla finestra, poi a rotazione ti trasferivi alla postazione successiva, fin quando lo spinello era finito. Dopodiché andavamo tutti in camera di uno di noi. Ridevamo come scemi, guardando un episodio 2 dei Griffin. Sentivo un legame inspiegabile con Stewie, un profeta disprezzato. Sapevo di comportarmi male, sapevo di sbagliare e lo sapevano anche i miei amici. E mentre eravamo fatti, dicevamo spesso quanto fosse stupido buttare via un'educazione a Eton. Una volta stringemmo persino un patto, all'inizio del periodo degli esami, chiamati trials, giurammo di smettere di colpo con le canne fino al termine delle prove. Ma quella sera stessa, dal mio letto sentii i compagni in corridoio ridacchiare, sussurrare diretti verso il bagno. Maledizione! Sano già infrangendo la promessa. Scesi dal letto e mi unì a loro. E mentre ci mettevamo in posizione, dalla vasca lavavo al gabinetto e l'erba cominciava a fare effetto, scuotemmo la testa. Che idioti eravamo, convinti di poter cambiare. Passami lo spinello, amico. Una sera, seduto sul gabinetto, feci un lungo tiro e fissai la luna, poi il parco della scuola. Vidi diversi agenti della Thames Valley Police andare avanti e indietro. Erano là fuori per via di me e Willy, i due principi. Ma quella vista non mi fece sentire a sicuro, bensì in gabbia. La sicurezza per me era al di là di quegli agenti. Là fuori tutto era calmo e tranquillo e pensai che splendore. C'è tanta pace nel mondo esterno, per alcuni, per quelli che sono liberi di cercarla. Poi vidi qualcosa sfrecciare nella corte interna. Si fermò sotto la luce aranciata di un lampione. Anch'io rimasi immobile per un istante, poi mi sporsi dalla finestra. guarda, una volpe, mi sta fissando. Che cosa amico? Niente, sussurrai alla volpe. Ciao amica, come stai? Che stai facendo? Niente, niente. Forse era stata l'erba, anzi di sicuro, ma provai un senso di affinità straziante fortissimo con quella volpe. Mi sentivo più vicino a lei che non ai miei amici del bagno, ai ragazzi di Eton, persino ai Windsor nel vicino castello. In effetti, quella piccola volpe, come il liopardo di Botswana, mi sembrò un messaggero giunto da un altro regno, forse dal futuro, se solo avessi saputo chi l'aveva mandata e qual era il messaggio.